22 marzo 2012, punta palasina, ecco qua la punta palasina, qui è la cima ecco vediamo Giovanni, qui è la cima 2740, che dire, siamo partiti da Estuare, il parcheggio a 1.800 e con un dislivello di 1.030 metri, 1.010 metri, siamo arrivati su questa cima in 2 ore e 15, ecco qui c'è tutta la salita, la salita, là c'è la baita, là c'è la posterale e qui facciamo prima un'enquodatura, lì vediamo il monte Pietro, alla sinistra la cima val nera, devi indicare col dito, la cima val nera, poi abbiamo la punta val fredda e sulla sinistra il corno vitello, lì c'è la cima bianca, sullo sfondo c'è la regina la margherita, la capanna, la c'è tutta la catena del monte Rose, vediamo il castor, il pollice, la roccia nera, il Brighton, poi passiamo sul Cervino, poi c'è il Denderems e poi tutte le catene, il montuoso, poi andando più a destra abbiamo il corno bussola, qua, indica il corno bussola, indica il corno bussola, allora, andrò subito dalla cima, della punta parasina 2882 e con un dislivello di 1000 metri in due ore e dieci sono arrivato su questa punta e con questo siamo il 22 marzo 2012, un saluto e la prossima. L'ultima panoramica, ecco vedete, ecco l'ultima panorama, Monte Rosa, arriviamo al corno vetello, punta val nera, va fredda, punta val nera e qui c'è tutto il ballone, arrivederci alla prossima.